L. Principe William ha fatto segno che non starà zitto sulle questioni che gli stanno a cuore, nonostante suo padre sia stato criticato per essere troppo politico.Il Principe William e Kate Middleton si concentreranno maggiormente su una questione chiave, mentre la coppia di potere si prepara a regnare un giorno. Quando suo padre, l'attuale re, era principe di Galles, è stato spesso criticato per aver parlato troppo su questioni per lui importanti, come il cambiamento climatico. Tuttavia, il nuovo principe e la principessa del Galles sono stati invitati a intensificare la loro campagna. Senza sconfinare nella politica. Lord William Haig, che ha lavorato con il principe per otto anni ed è ora presidente dell'organizzazione benefica di William e Kate, ha detto a Sky News, certamente nella fondazione reale, non stiamo cambiando tono, sai, semmai, andremo su un'altra marcia con un tono che è ben consolidato su come aiutare con alcuni problemi di alcuni dei problemi più profondi della società su cui dobbiamo riunire le persone su cui lavorare. Il corrispondente reale di Sky News, Riannon Mills, ha aggiunto, mi è stato detto che fare di più per aiutare i senza tetto è un'area in cui potremmo vedere più lavoro, soprattutto ora, William, alla rete di terra e attività associate al Ducato di Cornovaglia con cui giocare come erede. Grazie a tutti! Grazie a tutti!